Iore abbandona la scuola di 22 per motivi personali. Iore ha abbandonato la scuola di amici di Maria De Filippi 22. Nel day time del talent show è andato in onda questo pomeriggio di venerdì 17 febbraio 2023. È stato mostrato il momento nel quale il cantante, uno degli ultimi ad essere entrato a far parte della scuola, abbandona la casetta. Il suo banco era comunque a rischio, nell'ultima puntata del programma Rudy Zierbi aveva chiesto alla produzione la possibilità di sostituire uno dei suoi allievi, tra cui Iore, con Mezcal. Al termine del pomeridiano di oggi, è comparsa una scritta, Iore ha deciso di abbandonare la scuola per motivi personali. Poi è stato mostrato il momento nel quale il cantante salute i suoi, ormai ex compagni d'avventura. Iore ha abbracciato tutti, sorridente, poi è stato aiutato e accompagnato alla porta da Mattia Cenzola. Lorenzo Sengoni, in arte Iore, non ha specificato i motivi esatti. Cro hanno spinto a lasciare definitivamente il programma nel quale era entrato a far parte circa un mese fa. Dopo aver vinto la sfida contro Cricca. Dopo la partecipazione ad Area Sanremo 2022 che gli aveva permesso di esibirsi davanti ad Amadeus e alla commissione musicale Rai di Sanremo Giovani terminata senza lieto fine era riuscito a conquistare un banco d'amici 2022-2023. Motivi personali lo hanno costretto a ritirarsi. Una decisione del tutto inaspettata per i fan del programma, Iore ha deciso di abbandonare Amici dopo che il suo banco aveva iniziato a vacillare. Nell'ultima puntata del talent show infatti, il suo maestro, Rudy Zerbi, aveva chiesto alla produzione la possibilità di sostituire uno dei suoi allievi con Mezcal. Non era chiaro entro quanto tempo sarebbe stata effettuata la scelta, ma l'addio sarebbe spettato a 1-3 ore piccolo G. Con ogni probabilità, la decisione del cantante potrebbe dunque evitare la sostituzione del docente di canto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.